invece di tenerci in compagnia con la musica, tantissimi brani, tantissimi stacchi musicali quindi speriamo di essere di supporto a questa grande serata vedrà tantissime discipline sportive come ad esempio la kickboxing, la lotta, il muay thai, il pugilato vedrà grandi campioni come muay thai con il campione del mondo professionisti Gian Paolo Faelli Showbox con il più di campioni del mondo professionisti Massimo Rizzoli poi siamo in attesa di Fazio che combatterà per il tipo italiano professionisti poi ci sarà l'academia di cortesia, il loro brano è già pronto per accelerare i ritmi della screchia ricordo che dopo il primo brano Salimaz Sacca per la lotta, sul ring Alessandro Zanasi e Stefano La Cecilia Alessandro Zanasi col costume blu, Stefano La Cecilia col costume rosso quindi loro sono già pronti, ecco le ragazze pure sfumiamo la musica, apriamo la serata via con il primo brano, hip hop, buona raggi grazie 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 Saga 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 Grazie a tutti per la loro collaborazione e la loro presenza, grazie Barbara, potete scendere, grazie a tutti, grazie. E adesso salgano sul palco i bimbi della Kid Boxing Kids con il Pao e il maestro Sada, mentre si preparino i bimbi del Demo Fight per il loro primo incontro, ovvero Giovanni Guzzoni e Maicon Lumino. Le esibizioni saranno molto brevi proprio per recuperare tutto il tempo perso, per cui non ce ne vogliono i vari atleti ma dobbiamo cercare di dare tanto ritmo alla serata. Potete già partire, signori, è la volta della Kid Boxing Kids, moda ai Pao e il maestro Sada. Kip Boxing Kids, ai Pao e il maestro Sada. Mentre Marco Amendola sta curando le registrazioni, riprese televisive per tele-radio-città, la televisione della città di Modena. Ancora qualche minuto e poi appena terminato questo, immediatamente i bimbi del Demo Fight, Giovanni Guzzoni.